Eccoci puntuali come ogni settimana per parlare insieme ai nostri tantissimi telespettatori che come sempre ci seguono con grande effetto e per questo noi sempre li ringraziamo. Allora del Codacons Cosenza, la dottoressa Marielle Ippolite, inquadrate in questo momento, salutiamo la dottoressa Ippolite e l'avvocato Vierpaolo Rodighiero. Bentrovati, bentrovati. Codacons Cosenza per quanto riguarda l'avvocato Rodighiero con file Cosenza per quanto riguarda invece la dottoressa Ippolite. Allora dico subito che già sono arrivate un po' di domande sul nostro numero WhatsApp quindi come sempre cercheremo di rispondere a tutti però prima una domanda che ci è arrivata per quanto riguarda il 7,30 precompilato quindi questo comincia ad essere il periodo della dichiarazione dei redditi quindi il 7,30 si può fare anche da soli? Sì, per tutti coloro che sono in possesso di speed e naturalmente che abbiano un po' di competenze in merito alla definizione e alla lavorazione della dichiarazione fiscale si può tranquillamente verificare il precompilato presente nella sezione dedicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. In ausilio al fatto di farli in autonomia o meno si può naturalmente chiedere l'elaborazione tramite i CAF oppure tramite i professionisti abilitati nel fare ciò. Naturalmente il precompilato ci sono naturalmente delle possibilità. Se si accetta così come viene elaborato e fornito da parte dell'Agenzia delle Entrate si può tranquillamente verificare, incrociare con i dati in possesso del contribuente e naturalmente procedere all'invio. Nel caso invece ci siano dei dati che non sono stati inseriti, sono mancanti, sono incompleti, sono errati quindi naturalmente si può andare ad apportare delle modifiche al 730 stesso, quindi poi si verificano integralmente tutti i dati a partire da quelli anagrafici, a quelli reddituali, alle spese di ogni genere, quindi sanitarie e spese naturalmente per quanto riguarda ristrutturazione, quindi tutta la parte naturalmente che si porta in detrazione o in deduzione e poi naturalmente si procede all'invio. Quindi grossi modifiche rispetto all'annualità precedente non ce ne sono. Con lo speed si può procedere da soli. Sì, anche per chi, ripeto, è nelle condizioni di saperlo elaborare e di inviare, si può procedere tranquillamente essendo in possesso del proprio speed. Perfetto. Altra domanda, se si hanno notizie sulla carta dedicata a te? No, nessuna notizia in merito. Rimaniamo fermi all'ultimo, diciamo, alla ricarica di 382 euro che c'era la possibilità di poter spendere fino al 15 di marzo. Ulteriori nuove ricariche in arrivo che siano arrivate, diciamo, delle notizie ufficiali? Assolutamente no. Perfetto, quindi ancora bisogna aspettare. Avvocato, diciamo che noi siamo abituati, come sempre, ad aspettare. Cioè, anche su quelle cose che vengono promesse ai cittadini, magari c'è tanta attesa per quanto riguarda la carta dedicata a te, ma potremmo parlare di tante altre cose. I cittadini devono aspettare. I cittadini, per le pubbliche amministrazioni, non c'è un termine entro il quale devono pagare. Sebbene, torno sempre a ripetere, ogni volta che invece gli enti devono recuperare denaro da parte dei cittadini, mettono in moto quella micidiale arma che è la riscossione tramite gli enti di riscossione, appunto, che hanno leggi speciali e che praticamente non hanno le strade contorte che abbiamo noi comuni cittadini, ma colpiscono subito beni dei contribuenti. Pignoramenti sul conto possono... Ma pignoramenti sul conto, pignoramenti e cofermi amministrativi delle autovetture, e tenete presente che c'è molta gente che non è rappresentante di commercio, per esempio, oppure fortunatamente non ha un figlio disabile a carico perché altrimenti i mezzi che sono asserviti, che servono per lavoro come rappresentante o asserviti al disabile, non sono pignorabili, per cui si può chiedere subito, diciamo, la liberazione dal vincolo. Ci sono i comuni cittadini che per recarsi al lavoro hanno bisogno della propria autovettura perché sappiamo che soprattutto nel sud è una terra maledetta dove le comunicazioni e la percorribilità, quindi le vie di comunicazione non sono assolutamente fruibili perché non coincidono con l'orario di lavoro da tutte, diciamo, le destinazioni e le provenienze, per cui anche lì in quel caso il danno è doppio, nel senso che si creano veramente grossi pregiudizi e, ripeto, qui sono tutte delle norme che sono un poco liberticida. Ecco, infatti si creano tanti danni. Tanti danni, tanti danni e ci sono poche armi da parte del contribuente, per cui sono cose che bisognerebbe rivedere, soprattutto in questi anni di sofferenza per una buona fetta di popolazione, perché manca veramente denaro non per spese voluttuarie che non servono, ma veramente per poter lavorare, eccetera, eccetera. Quindi è un qualcosa su cui il legislatore dovrebbe un po' guardare. Sicuramente. Altre domande che ci arrivano sul nostro numero WhatsApp. Domanda sulla dichiarazione dei redditi, casalinga a carico del marito, ma i genitori gli hanno donato la casa dove ancora abitano i genitori, incomodato gratuito. Ci chiede, devo fare la dichiarazione, quindi non ha altri redditi, è casalinga, ha solo questa casa in donazione, però dove abitano ancora i genitori. Bisogna vedere le rendite di questo immobile, naturalmente, perché ci sono dei casi in cui bisogna fare anche la dichiarazione dei redditi solo se si possiede beni immobili, quindi se sono più sub, se è un sub unico. Quindi io consiglio comunque di recarsi da un professionista o anche ad un CAF in modo tale da verificare dal punto di vista catastale come, diciamo, proprietaria, ma se è un sub unico, se sono più sub, quindi queste verifiche di farle perché bisogna verificare la rendita a quando ammonta e poi lì il professionista gli sa dire se è obbligato o meno nel doverla fare. Quindi io consiglio sempre una verifica da un consulente, dal proprio commercialista, di poterlo, o ad un CAF, di poterla fare. Altra domanda, invalido al 100% con i 6 di 2.750, separato in casa da 12 anni, adesso vedremo, insomma, separato in casa che cosa significa. Ha 80 anni, ha fatto domanda di Adi il 22 dicembre alla pensione sociale. La domanda, ci dice, è stata acquisita ma ancora nessuna risposta. La sua ex moglie prende la pensione di 1000 euro al mese. Intanto vediamo che significa separato in casa, perché bisogna capire se c'è una separazione di fatto, se c'è una separazione legale. La domanda così posta non dice nulla, perché separato in casa non significa assolutamente nulla. Anche se i congi sono legalmente separati, la separazione, per avere l'estinzione degli effetti della separazione, sebbene legale, personale dei congi, fatta quindi con i crismi del tribunale, si annulla con il ritorno alla convivenza, per cui separati in casa è molto sibillino. Il telespettatore poi dice che la moglie comunque ha una pensione di 1000 euro. Questa pensione di 1000 euro comunque sarà contributiva, ovviamente, incide molto sull'entità della pensione, perché comunque sono conviventi, comunque, anche se sono separati in casa, non hanno due nuclei familiari sotto lo stesso tetto, marito e moglie, anche se sono separati in casa, per cui lì è più da andare ad approfondire e poi praticamente queste problematiche che ci sono, se le deve sbrigare con il patronato, andare a vedere perché non gli danno questa misura. Quindi il patronato che ha fatto la domanda avrà acquisito chiaramente... Sì, ma anche perché l'Adi non gliel'hanno, o è un ritardo amministrativo, o è un ritardo nella produzione documentale, però il telespettatore deve andare più a soffermare l'attenzione sui redditi del nucleo, perché separati in casa, ripeto, non significa molto, diciamo. Abbiamo intanto una telefonata? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Sì, buonasera, sono presentata da Maria D'Aveggio Calabria. Benvenuta, signora Maria. Grazie, signora, vi faccio la domanda e poi abbasso il telefono e mi sento dal telefono di cuore. Perfetto. Pronto? La sentiamo, signora. Per come sono invalida al 100% e devo fare un viaggio, devo avere un intervento. E mi hanno detto che posso fare la carta blu. In che cosa consiste e cosa devo fare? Per un viaggio quindi questo, perché lei è invalida, deve fare un intervento. La disability card. Sì, la disability card, quindi. Signora, lei sta parlando della disability card? Forse questa carta blu sarà questa. Forse la signora ha già messo giù, la salutiamo la signora Maria, quindi sarà questa sicuramente. Che cosa deve fare? Allora, praticamente c'è una richiesta, deve sempre rivolgersi tramite un canale patronato. Naturalmente se il suo intervento è imminente, gli consiglio alla signora di farlo quanto prima, anche perché poi sono necessari dei tempi tecnici, poi tra la richiesta e poi l'erogazione della carta stessa. Patronato di fiducia, c'è una richiesta telematica sempre da fare e poi naturalmente la carta arriva tramite posta all'indirizzo che naturalmente viene inserito in fase di richiesta. Quindi sempre tramite patronato bisogna fare la richiesta. Ma cosa dà diritto questa disability card? Allora, praticamente dà una serie di convenzioni con negozi, con trasporti, con pullman, treni, aerei. Cioè sono una sorta di agevolazioni anche nei costi. Quindi se magari un biglietto costa 100 euro, chi è in possesso di questa carta e magari è in un esercizio convenzionato ed è convenzionato chi è il gestore del servizio stesso, gli applica una percentuale di sconto, che può essere del 5, del 10, del 20. Quindi sono degli sconti insomma per l'acquisto. Passano naturalmente a chi sono possessori di questa carta, quindi invalidi al 100% grave, con patologie dichiarate, quindi bisogna caricare i verbali di invalidità, 104 e tutto quanto. Quindi è proprio una domanda telematica che bisogna fare tramite il sito IMSS. Perfetto, spero che per la signora sia tutto chiaro. Il patronato di fiducia della signora gli può dare tutte le giuste indicazioni per poter elaborare la richiesta. Oppure se è in possesso dello SPID e anche la signora, magari non la persona invalida, ma il suo assistente gli può dare supporto nella richiesta stessa. Perfetto, quindi questa è la procedura. Quindi salutiamo la signora che ci chiamava da Reggio Calabria. Altre domande per quanto riguarda l'invalidità. Allora, 100% di invalidità, la 104 articolo 3,3 senza revisione. Volevo chiedere se ho diritto all'accompagno. Allora, è un'altra domanda che bisogna fare se non gli hanno dato in prima istanza questa indennità di accompagnamento giusto avvocato. Perché è altro, quello è altro. Un articolo 3,3, quindi in stato di handicap, quindi 100% di invalidità, è uno stato fisico che ha il soggetto che ne è portatore. Ovviamente l'indennità di accompagnamento, bisogna sempre andare a vedere all'interno di questo stato di handicap, se è in grado di vivere, quindi di coprire gli atti quotidiani della vita, non ausiliato, cioè senza l'aiuto costante di una terza persona. Ecco perché l'indennità di accompagnamento. L'indennità di accompagnamento è la persona che accompagna, una terza persona che accompagna. Per cui non c'è nessun automatismo, ecco, fra articolo 3,3 e indennità di accompagnamento. Ovviamente chi è già titolare di questa percentuale in stato di handicap può richiedere tramite aggravamento, domanda di aggravamento tramite patronato proprio medico di famiglia, una domanda online per avere l'indennità di accompagnamento. L'unica accortezza è questa, ogni volta che si chiede l'aggravamento, la commissione di primi stanza IMSS non è che non guarda nella totalità le condizioni psicofisiche del richiedente, perché molto spesso uno chiede l'aggravamento e si ritrova con una... cioè non gli danno l'indennità di accompagnamento, gli tolgono anche lo stato di gravità di handicap. Per cui è ovvio, non è che sul cartaceo la commissione parte da quello che uno ha certificato e va avanti, no, fa una valutazione complessiva, per cui molte persone fanno l'aggravamento per trovare grazie e trovano giustizia, insomma, ma ce ne sono tanti i casi. La stessa cosa quando chiamano a revisione, non è che la commissione di primi stanza dell'IMSS, quando chiama a revisione, va a vedere solo se c'è un aggravamento, se la patologia com'è, spesso e volentieri ricorrendo nei presupposti va ad abbassare l'entità dell'invalidità che sebbe soggetta poi a impugnazione indiziale, per cui... Certo, bisogna stare attenti e bisogna farsi... Bisogna stare, non si gioca con l'aggravamento, per cui se c'è effettivamente una situazione di non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, si fa uno, ecco, l'aggravamento e richiede di essere ausiliato, altrimenti... Beh, poi è sempre una valutazione che parte sempre dal medico curante. Sempre dal medico curante, che non deve essere, ecco, deve essere l'obiettivo, non sento che fare queste richieste... Perché conosce comunque il paziente... Il paziente vede se ci sono le condizioni o meno. Intanto abbiamo una telefonata. Pronto? 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 Salve, da dove ci chiama? Io chiamo da Castrovillari. Benvenuta intanto, prego. Sì, io volevo chiedere... Io avevo fatto una domanda di accompagnamento... Sì. Nel 2020? Sì. E mi era stata data il 99% e io non ho fatto il ricorso, però mi hanno scritto, mi avevano detto che ero un'imvalida, ho avuto 65 anni, non ero in grado di fare i miei servizi tutto il giorno. Adesso ho fatto l'aggravamento. No, di con gli atti dell'età. Gli atti dell'età. Dell'età. Io ho 75 anni. No, 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 io vi credo, signora. Sì, sì, sì. Allora, 99% già... Qual è la domanda, signora? Adesso ho fatto l'aggravamento. Sì. E mi hanno dato il 100% grave, però i soldi no. Non le hanno dato l'accompagnamento, quindi le hanno fatto questa percentuale in più? Ma quindi si lamenta dell'accompagnamento. Cosa devo fare? Lei voleva l'accompagnamento, la signora, credo, giusto? Aveva fatto l'aggravamento per ottenere l'accompagnamento. È così, signora? Sì, sì, sì. Ok, però non le hanno riconosciuto l'indennità di accompagnamento, ma le hanno riconosciuto una percentuale superiore. No. Cioè il 100%. Il 100%, ma il beneficio economico... Il 100% grave. Grave, sì. L'articolo 3,3. Però, venite... Il beneficio economico si ha dal 74% in voi. Se avevate il 99%, 99%, siete andati al 100%, non è che nella tasca vi entrano più soldi, questo vi voglio dire. Forse non le hanno dato neanche il beneficio economico. Forse non vi hanno dato il beneficio economico prima, perché c'è qualche problema a monte prima, ma non perché ecco, dal 99% al 100% prima niente e poi avete i soldi. No, probabilmente per il beneficio economico forse c'è una questione anche di reddito giusto per avere il beneficio economico. che cosa vi dice, ecco, diciamo, che cosa valuta. No, e se faccio il ricorso? Se faccio il ricorso? Se ci sono i presupposti, sì. Il ricorso, allora, non è che il giudice della Previdenza, del luogo dove voi siete residenti, cioè alla bacchetta magica, nominerà un consulente tecnico, un medico, che va a vedere se siete meritevole purtroppo di avere l'indenità di accompagnamento oppure no. Quindi non è che fate il ricorso perché proviamo. Cioè, se ci sono i presupposti, lo fate, perché ve lo diranno non è il medico vostro. non la sento bene. Eh, non so com'è. Non sentite, signora, non sentite, credo... Adesso sì, però non ho sentito quello che ha detto l'avvocato. Forse non è che ci sono problemi sul... Adesso chiediamo alla regia di... Va bene il microfono, mi dicono, avvocato. Eh, quindi, quindi il ricorso lo si fa, quindi in opposizione al rigetto della domanda di accompagnamento. Se ci sono i presupposti psicofisici, ecco perché è uscito questo verdetto da parte della commissione di primistanza medica dell'Inps. Vi ha riconosciuto il 100% con stato di handicap, quindi articolo 3,3. Per avere l'accompagnamento, sarà il vostro medico di famiglia che sa se dovete essere ausiliata o meno, per cui il semplice ricorso che voi fate contro questo verbale non vi dà nessun automatismo. Non è che fate ricorso e avrete l'indennità di accompagnamento. Ci sarà un altro... Avrete l'indennità di accompagnamento se ci sono i presupposti medici. Ci sarà di nuovo una visita a cui sarete sottoposta e poi ci sarà un esito. Quindi questo consulente tecnico che il giudice, questo medico che il giudice nominerà farà la sua valutazione e dirà se avete bisogno di accompagnamento o meno. Cioè se siete in grado di comprare gli atti quotidiani della vita che significa cucinare... No, loro mi hanno scusate, loro mi hanno di nuovo scritto che non sono in grado di fare le cose quotidiane per me tutto il giorno. Per l'età, quindi. Per l'età, però. Per l'età, ho 75 anni. Per l'età e l'accompagnamento è una cosa diversa. L'accompagnamento è che non siete in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Cioè lavarsi, vestirsi, cucinare, riuscire ad avere una... Perlomeno riuscire a muoversi, a deambulare senza aiuto continuo di una terza persona. Cioè questo significa accompagnamento. Sono sola comunque, sono lei dove... Sì, comunque l'accompagnamento è sempre una valutazione medica. Lei giustamente dice io ho fatto ricorso, mi hanno riconosciuto il 100% articolo 3,3. Se lei ritiene insomma di avere il diritto a questo accompagnamento sicuramente il ricorso lo può fare signora per carità. Anzi, se ci sono, insomma, se il medico curante, gli specialisti certificano che la signora magari è affetta da patologie tali... io ho una patologia di asma bronchiale ad alto livello. Non vogliamo sapere le patologie signora perché è una valutazione medica quella, chiaramente sarà il medico curante e noi da qui assolutamente non possiamo dire se quella patologia... No, no, ma c'è perché signora ci sono molte persone che qualcuno mi conosce per strada anche se io non conosco loro e mi fanno la stessa domanda vostra cioè hanno il 100% articolo 3,3 e hanno rifiutato l'accompagnamento e dicono avvocato posso fare ricorso? Io dico sempre ma se tu passeggi no? Come vuoi che ti diano l'accompagnamento? Cioè per dire allora quando c'è la patologia ecco bisogna farlo però ovviamente significa non poter compiere gli atti quotidiani della vita se uno esce e va a fare la spesa con difficoltà dell'età ma va a fare la spesa sicuramente non ha problemi di deambulazione sicuramente gli atti quotidiani della vita riesce a compiere bisogna insomma ecco non sono delle mere pratiche veramente burocratiche che uno fa ricorso e ha il beneficio economico dell'indennità per cui torna a ripetere si faccia consigliare dal suo medico curante che saprà sicuramente consigliarla certo noi ci dobbiamo fermare pochi istanti devo dare la linea alla regia però signora segua questo consiglio il medico curante il medico che vi deve dire se avete le patologie tali da poter avere diritto appunto all'accompagnamento ci vediamo tra pochissimo ed eccoci di nuovo in studio tantissime domande su questa indennità di accompagnamento veramente sono diverse le richieste che ci arrivano però noi lo ripetiamo sempre dottoressa perché c'è una valutazione medica non possiamo dire naturalmente quello che noi possiamo semplicemente puntualizzare consigliare dopo un verbale con un 99% se effettivamente dietro parere medico ci sono le condizioni per poter essere sostenuto un ricorso consigliabile che si fa ci sono sei mesi di tempo da quando viene naturalmente dato il verbale per poter valutare un ricorso legale il 99% lo richiama quasi certo perché sembra quasi una beffa mi scusi dottoressa però se uno c'è il 99% al 100% insomma sì quindi praticamente significa che le condizioni di salute e le patologie ci sono per cui a mio parere il consiglio è quello di un consulto legale una consultazione legale di farla la signora quindi perché rinunciare o comunque aspettare per presentazione di magari nuove patologie che si vanno ad aggiungere a quelle che già per me ci sono le condizioni per poter avere il 100% grave già da questo verbale qui un consulto legale assolutamente favorevole io capisco anche che magari dopo i vari furbetti che hanno sono riuscite ad avere l'indennità di accompagnamento pur non avendone diritto avvocato perché le cronache si sono spesso occupati insomma di persone che magari risultavano cieche al 100% che guidavano la macchina insomma e lì c'è tutto un discorso da fare perché chiaramente lì in quei casi c'è una complicità chiaramente dietro per far ottenere queste indennità io capisco insomma che bisogna controllare bene però ci sono delle persone davvero che hanno situazioni che capita spesso di vedere anche malati oncologici appena terminate le cure che magari vengono richiamati a visita a revisione quant'altro che magari gli viene tolta gli viene comunque diciamo eliminato l'indennizio economico che in un momento diciamo di difficoltà oltre di salute diciamo il sussidio economico serve anche per affrontare determinate spese che non sono di poco per cui voglio dire se ne vedono e se ne sentono tante però 99% le condizioni ci sono le patologie credo che siano ci sono sono certificate poi chiaramente siano chiare per cui alla signora consigliamo così come già pure l'avvocato ha sottolineato prima un consulto legale di poterlo fare insieme anche al proprio medico curante che magari può dire se ci sono le condizioni per diciamo avanzare un ricorso legale intanto abbiamo una telefonata pronto pronto salve da dove ci chiama sono il medicino benvenuto intanto prego siccome volevo chiedere che a fine febbraio mi avevano detto che per l'affitto casa erano arrivati invece adesso cinque giorni fa un altro impiegato al comune del medicino mi ha detto che non è arrivato per sapere quando arrivano questi soldi lei vuole sapere questo affitto casa che ci fa lo abbiamo detto lo abbiamo detto la scorsa settimana voi vi dovete recare al comune in questo caso mendicino e fate una richiesta di accesso agli atti c'è un modellino volete sapere se sono arrivati o meno i soldi per il contributo fitto casa anno 2022 e l'amministrazione comunale vi deve rispondere fate una richiesta di accesso agli atti molto semplicemente perché altrimenti un impiegato dice una cosa un impiegato dice un'altra cosa è quello che è sicuro che voi non avete il contributo solamente quello è sicuro quindi per cui c'è un modellino eh? diceva? va benissimo mi ringrazio no no per iscritto quando si fanno delle donazioni c'è un modellino c'è un modellino che vi dà il comune non dovete no perché giustamente diceva l'avvocato magari c'è un impiegato un po' distratto insomma è meglio avere le risposte per iscritto quando poi ci sono delle insomma questo contributo noi lo sappiamo che viene atteso davvero con ansia da tante persone che ne hanno diritto veramente è una diciamo una piccola goccia nel mare perché non è risolutivo assolutamente perché non è più il 100% da quando abbiamo iniziato a fare questa trasmissione ricordavamo con l'avvocato noi parlavamo del contributo fitto casa 100% cioè veniva coperto veniva coperto tutto quanto e anzi c'era esubero poi nel corso degli anni praticamente queste percentuali si sono ridotte sono sempre scese poi al telespettatore che è mendicino per chi non lo sa è una cittadina una ridente cittadina però non è una metropoli per cui diciamo sono pochi abitanti ritengo che acquisire queste informazioni di primo mano cioè non dovrebbe essere difficile però se ci sono risposte contrastanti all'interno del comune fate questa richiesta per iscritto insomma sempre avere le richieste avere le risposte per iscritto quando si ha a che fare perché si perdono diritti stando a sentire praticamente si perde tempo no si perde tempo e si possono anche decorrere non nel caso del contributo fitto casa dei termini per avere qualche altro beneficio economico per cui sebbe per iscritto è sempre meglio certo sempre meglio parliamo un po' di bonus dottoressa vediamo un po' di aiuti che ci sono per queste famiglie perché abbiamo visto questo fitto casa che diciamo non serve neanche a pagare a volte una mensilità dipende poi dalle percentuali che vengono date però è un contributo importante per tante famiglie e purtroppo negli anni tante famiglie hanno anche perso la casa perché si sono trovate in grosse difficoltà però ci sono anche altri aiuti per le famiglie che cercano di intercettare un po' di sostegno ciò che si sono ridotte notevolmente bonus perché ormai la gente si era abituata a richiedere bonus dal periodo covid in avanti quindi c'erano comunque bonus di continua addirittura il bonus occhiali da vista erano piccoli contributi anche di 50 euro per acquistare le lenti nuove quindi comunque c'erano bonus vacanza che è comunque stato un bonus che diciamo ha avuto anche il suo diciamo favoritismo bonus attuali il bonus psicologo che oltretutto è presentabile dal 18 di marzo devo dire la verità che in fase di richiesta ci sono tante tante persone che lo stanno richiedendo anche perché c'è un tetto ISE molto elevato parliamo di 50 mila euro e quindi molte persone molte diciamo componenti dei vari nuclei familiari che hanno comunque mediamente l'ISE si aggira intorno ai 15 barra 20 mila euro lo stanno richiedendo in tanti e il bonus trasporti chiedono perché non sia diciamo attualmente richiedibile purtroppo fin quando non ci sono i fondi che vengono messi a disposizione e si dà il via nel poter fare la richiesta è un bonus che fino a dicembre del 2023 ha comunque dato degli importi ad un sacco diciamo di componenti nuclei familiari 2024 purtroppo non risulta richiedibile niente quindi hanno tolto anche questo non al momento non è ripartito per quanto riguarda altri bonus bonus genitori separati ma è comunque ci sono dei requisiti quindi va verificato sempre in modo attento da parte naturalmente dei consulenti caffo patronato dove ognuno si rivolge perché non è necessario semplicemente essere separati e non ricevere il mantenimento per poter avere diritto a questi 800 euro al mese per 12 mesi ci sono tutta una serie di condizioni che naturalmente bisogna avere quindi nel periodo del covid chi comunque doveva erogare il mantenimento ha dovuto avere una serie di difficoltà economica quindi ha dovuto o sospendere l'attività o addirittura cessarla o avere una forte riduzione del fatturato quindi parliamo del reddito di almeno il 30% e in più l'ISE non deve superare determinati parametri per chi lo deve naturalmente ricevere quindi vada bene che sono comunque delle richieste dove vanno fatte delle attende valutazioni perché se si fa la richiesta e non si hanno poi i requisiti e per un qualsivoglia motivo viene erogato se l'IMSS poi fa i controlli come è giusto che fa bisogna ridarlo indietro con gli interessi e quello che matura dietro una erogazione sbagliata bisogna stare attenti nelle dichiarazioni perché ci sono vari requisiti che bisogna avere quindi io più che dire attenzionare perché molti chiamano solo perché sono separati solo perché magari il marito non ha dato il mantenimento a me aspetta bisogna verificare se ci sono le condizioni quindi lo specifico perché in molti casi si pensa di averlo e basta a prescindere se invece il marito non l'ha voluto dare perché non glielo voleva dare o perché comunque se una persona un marito o comunque chi deve erogare l'assegno di mantenimento non l'ha mai dato perché non ha mai avuto reddito diciamo non c'è né una gestazione né una sospensione né un abbassamento del reddito del 30% per cui è una situazione lineare che non si è mutata per causa del covid esattamente non c'è stata nessuna modifica causata dal covid quindi non c'è questa differenza se è una situazione lineare che ogni anno uno non lo pagava prima non lo pagava prima non lo continuerà a pagare neanche dopo magari ci sono altri metodi avvocato per ottenere il diritto all'assegno bisogna vedere sempre bisogna andare sempre a scavare se l'obbligato è capiente quindi poi purtroppo l'imbuto della giustizia è questo ma non abbiamo ancora non c'è un'indennità per il single che perde il lavoro o in questo caso per la coppia diciamo per il coniuge economicamente più debole non c'è tranne questa cosa eccezionale del covid non c'è un intervento economico per aiutare queste persone per cui ci sono tante situazioni che diciamo che non sono tutelate sono nell'ombra per cui nell'ombra non sono mai state normativizzate però esistono con effetti devastanti ci sono infatti dietro queste situazioni persone che soffrono persone che non hanno che non hanno niente quindi non poi dobbiamo ricordare anche a proposito poi anche sempre di bonus l'assegno di inclusione che per quanto si possono avere invalidi nel nucleo minori nel nucleo e allora si può avere diritto all'assegno di inclusione ma badate bene che quelli che comunque risultano appartenere ad un nucleo nell'età collocabile al lavoro il centro per l'impiego li sta convocando perché devono attivamente fare il patto digitalizzato quindi fare la parte della formazione perché rientrando nelle persone collocabili al lavoro anche se sono per settori di adi devono fare la formazione perché purtroppo non siamo più con la vecchia misura del reddito il reddito di cittadinanza è un discorso chiuso al 31 dicembre 2023 questa misura che è partita che comunque sta dando la possibilità di avere un sussidio per chi ha gli invalidi per chi ha i minori nel nucleo è pur vero che chi è collocabile deve comunque formarsi che deve essere d'auspicio poi a trovare lavoro nelle varie aziende in base ma questa formazione è partita poi ci sono sono partiti molti corsi sono partiti altri si stanno organizzando per partire quindi qualcosa sembra che si stia muovendo ecco perché abbiamo avuto queste segnalazioni perché ci sono alcune alcuni percorsi formativi che se uno avesse dovuto sopportare le spese per acquisire l'abilitazione costano migliaia di euro per cui uno ne deve approfittare che è gratuito anzi danno anche qualcosa per cui non sono corsi di formazione così l'abilitazione che uno prende c'è un'abilitazione che costano migliaia di euro se uno avesse dovuto sborsare i soldi è una grande opportunità è un'opportunità di formazione e di acquisizione di un'idoneità di un titolo per ecco per rimettersi nel posto di lavoro per cui non sono tutte festerie così ci sono dei corsi che costano molti 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 soldi è gratuito è gratuito la formazione e gli anni vengono pagati uno ne deve approfittare non ne può fare due contemporaneamente altrimenti uno si prenderebbe due abilitazioni insieme però è così ecco quindi con molta attenzione perché no manca manodopera specializzata manca quelle nicchie di mercato lì sono abilitazioni che insomma costano molto però danno sicuro lavoro quindi la formazione è in questo caso che molti dicono ma io non ho la macchina per poter andare a fare la formazione ma perché si può fare sul computer allora la formazione in linea di massima si svolge una parte in aula una parte in e-learning significa videocorso quindi da casa però in aula bisogna andare ci sono c'è anche una parte che bisogna fare in aula quindi bisogna organizzarsi se uno magari non ha un mezzo proprio bisogna che chieda l'ausilio però in ogni caso è molto chiaro che la formazione prevede un sussidio di 350 euro al mese ma che vengono erogati solo se si fa la formazione se la formazione non parte non inizia non si fa viene sospesa si rinuncia si rinuncia anche al sussidio assolutamente sì hai 350 euro al mese certo la formazione è importante perché purtroppo se non ci si forma non ci si può neanche aspettare di avere e di partecipare attivamente anche alla ricerca del lavoro quindi ci sono corsi per esempio di giardinieri poi naturalmente noi ci interfacciamo un po' con il pubblico che lo sta facendo per esempio questi corsi di giardinieri molte persone è importantissimo perché si formano e poi magari chi ha intenzione di aprirsi in autonomia chi magari va a lavorare in aziende che si occupano di queste o con ditte che si occupano di giardinaggio e quant'altro quindi la formazione è comunque importante e bisogna farla poi il sussidio dei 350 euro uno non lo deve fare per il sussidio dei 350 euro uno lo deve fare nell'ottica di trovare lavoro e di formarsi e di immettersi nel mondo del lavoro anche perché 350 euro diciamo solo chiaramente non è una misura che danno 350 euro al mese per sempre no sono 350 euro al mese per 12 mesi poi si vede intanto si fa la formazione e poi se non si trova lavoro sicuramente poi il governo varierà a nuove misure per chi magari ha fatto la formazione e ancora non ha trovato una collocazione allora si parlerà poi di altre misure ma intanto oggi c'è questo e bisogna fare questo bisogna fare questo dicevo 350 euro al mese non è che ti consentono di fare una vitaggiata insomma perché 350 euro arrivano due bollette e sono già finite sì non servono assolutamente così come anche chi sono per settori di naspi che prima magari non ricevevano le chiamate da parte del centro per l'impiego quindi chi era per settore di naspi mensilmente percepiva l'indennità e non veniva magari chiamato o interpellato adesso il centro per l'impiego anzi avviso tutti i colori che sono possessori di per settori di naspi che stanno arrivando le comunicazioni via mail sul numero di telefono di rivolgersi al centro per l'impiego perché giustamente devono acquisire i dati di chi è disoccupato che tipologia di mansione ha sempre svolto di quello che si occupa per vedere se possono essere di aiuto nel trovare un nuovo impiego e se non si fa che al colloquio non si fa si trovano sospesa la naspi o se non si dà un giustificato motivo per non andare al colloquio si trovano bloccati la naspi e poi giustamente chiamano i patronati perché non arriva passa un mese due mesi tre mesi quando si va a vedere la motivazione si trovano sospesi della prestazione perché magari non sono andati al colloquio del centro per l'impiego è arrivata la comunicazione giorno tot sulla mail quindi bisogna stare molto attenti al colloquio bisogna andare se uno è impossibilitato deve dare una valida giustificazione ci chiedono poi sui corsi di formazione se ci sono limiti di età per partecipare insomma sono i 59 anni collocabili al lavoro fino al 59esimo anno anzi al 60esimo 60 quindi anche se uno ha 60 anni 60 anni compiuti non riguarda più 59 sì per un anno ancora potrebbe avere diritto a fare la formazione quindi insomma c'è vedo anche addirittura stanno chiamando dal servizi sociali del comune anche chi ha l'assegno di inclusione magari ha i 60 anni li stanno comunque profilando a 60 anni stanno ricevendo le comunicazioni dei servizi sociali per dei carceri verificare naturalmente il requisito di età o magari quello che è stato autodichiarato poi dal assistito stesso certo che poi l'obiettivo è sicuramente entrare non nel mondo del lavoro però insomma a 60 anni sicuramente sarà bellissimo formarsi magari a prendere una nuova però poi a 60 anni non ci si forma però giustamente ci sono quei casi limiti 56 57 che purtroppo non si ha diritto non si ha la pensione non si ha diritto all'Adi perché l'Adi bisogna avere compiuti comunque 60 anni si può fare l'SFL la formazione si deve fare la formazione e poi in attesa comunque in attesa magari poi tra 12 mesi di raccontare avvocato che tante persone sono riuscite a trovare un lavoro dopo aver intrapreso questo percorso noi lo speriamo sì ma questo è perché normalmente adesso a 67 anni con determinati requisiti si va in pensione per cui diciamo che essere collocati al lavoro ecco normalmente l'età pensionabile crescerà se non intervengono norme di legge però quello è però quello è quindi quello e bisogna sfruttare le occasioni che ci sono perfetto allora noi siamo in chiusura grazie come sempre al nostro avvocato per parola di ghiero grazie come sempre alla dottoressa Mariella Ippolito in regia oggi Enzo Leonetti e Massimiliano Fino ringraziamo i nostri telespettatori l'appuntamento come sempre è per la prossima settimana grazie a tutti a tutti a tutti l'abbiamo a tutti finture per avvii l'attro attraverso grazie a tutti Grazie a tutti.